Il vertice della maggioranza di centrodestra alla Regione ha tracciato un programma di azione da ottobre a dicembre, risaldata l'alleanza vincente nel 2022. I dettagli. La maggioranza di centrodestra al Governo della Regione siciliana si raduna e traccia le bilanze di previsione dell'azione politica e amministrativa da ottobre a dicembre. Sono tre le tappe di rilievo emersi, il commissariamento delle società partecipate, come l'azienda siciliana Trasporti, per definirne le sorti tra liquidazione o gestione autonoma, poi la riforma della sanità e poi le elezioni provinciali, le 15 dicembre, come prospettato e, essendo mancata l'approvazione dell'elezione diretta col voto dei cittadini, sarà una votazione di secondo livello, ovvero voteranno solo i consiglieri comunali e i sindaci di ciascuna provincia per eleggere Presidente e consiglieri provinciali. Ad inizio della seduta Schifani ha letto una relazione a consuntivo dell'attività di governo nei primi due anni dall'insediamento. Il Presidente, tra l'altro, ha vantato l'aumento delle entrate tributarie, il miglioramento del rating da parte di tutte le agenzie internazionali, la riduzione del disavanzo e della compartecipazione della Regione nella spesa sanitaria nazionale e l'avvio della procedura per l'installazione dei termovalorizzatori. E poi, in prospettiva, Schifani ha prospettato l'aumento delle risorse contro il carovoli, sostegni e agevolazioni per gli studenti universitari e poi un piano casa con prestiti a zero interessi per la ristrutturazione delle case, con adeguamento energetico per le giovani coppie nei centri storici e nuovi interventi contro le emergenze climatiche. Poi, sul piano prettamente politico, Schifani ha confermato l'intenzione di procedere sulla base dell'alleanza e del risultato alle elezioni regionali del settembre del 2022. Anche si è riconosciuto il crescente ruolo di noi moderati a fronte, peraltro, dell'ormai prossima adesione su scala nazionale delle ex di Forza Italia ed ex di azione di Calenda, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Giussi Versace. Il Summit, servito anche per estemperare le recenti tensioni interne in sorte sulle nomine dei vertici della sanità, si è protratto oltre quattro ore. Per il Movimento per l'autonomia sono stati presenti Raffaele Lombardo, l'assessore Roberto Di Mauro e il segretario del partito Fabio Mancuso. Poi Massimo Dell'Utri, per noi moderati, per Fratelli d'Italia, il capogruppo Giorgio Assenza e due coordinatori, occidentale e orientale, Gian Piero Cannella e Salvo Poiese. Per la Lega, il commissario regionale Lino Germanà e il capogruppo all'Assemblea, Marianna Caronia. Per la democrazia cristiana, oltre a Totò Cuffarro, il segretario regionale Stefano Cirillo e il capogruppo Carmelo Pace. Il tavolo si riunirà ancora periodicamente anche da remoto.